Nell'episodio dell'eredità trasmesso nel preserale di ieri, venerdì 2 febbraio 2024, è stato confermato come campione Giuseppe. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire cosa è successo all'eredità, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Durante i precedenti appuntamenti Giuseppe ha dimostrato una notevole abilità, arrivando quasi senza intoppi alla finale. Con un monte premi iniziale di 170.000 euro, ha dimezzato questa cifra solo una volta, giocando quindi per 85.000 euro. Le cinque parole della ghigliottina erano Mettere, carta, parole, camera, amante. La parola che le unisce tutte è musica. Giuseppe ha selezionato correttamente questa risposta, guadagnando così i suoi 85.000 euro in gettoni d'oro. Tuttavia, la sua vittoria ha suscitato discussioni su Twitter. Un utente ha insinuato che gli fossero stati regalati i soldi, mentre un altro ha commentato ironicamente sul livello di difficoltà della ghigliottina. Ha scritto, ma io sto qua a fare ragionamenti complicati, e poi ultimamente sempre solo banalità, ghigliottina facile facile. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per farci sapere la tua opinione e ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.